Decidere sia che tipo di contratti chiedere all'interno dei capitolati da panto quando si mette la gara da panto, sia anche chiedere che in questi contratti i lavoratori siano inseriti con un tetto salariale minimo di 9 euro all'ora. Questi contenuti della mozione presentata dai consiglieri comunali di opposizione di Mogliano che impegna il comune trevigiano, anche se con l'articolo 11 del codice degli appalti, può essere attuato da ogni amministrazione ad adottare per i lavoratori coinvolti negli appalti dell'ente un salario minimo di 9 euro all'ora, capofila di questa iniziativa a Firenze che aveva presentato lo scorso maggio la delibera. Negli anni gli enti locali hanno cercato di fare economie immettendo delle gare al massimo ribasso nel mercato che hanno determinato delle condizioni per i lavoratori degli appalti comunali che molto spesso erano al di sotto di una soglia salariale che gli permetteva di avere un minimo di dignità nella loro vita. Oltre all'introduzione di un salario minimo la mozione fa un ulteriore passo, scegliendo quelli che sono i contratti più rappresentativi con le sigle sindacali che appuntano rappresentano più lavoratori nel territorio. L'amministrazione comunale si impegna anche a effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati a partire da 2022, verificando le condizioni sia dal punto di vista economico che normativo, a verificare il rispetto dell'applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante, redigendo ogni sei mesi un report relativo agli appalti in essere. Non si tratta di una provocazione specifica a Nilandi, ma di una vera e propria scelta politica. Possiamo scegliere come attrazione di tutelare i diritti dei nostri lavoratori in affalto e quindi di credere anche al valore del lavoro e del particolo 1 della nostra Costituzione, oppure possiamo scegliere di non farlo facendo delle economie sui servizi e poi di conseguenza avendo poi dei servizi scadenti nei confronti dei cittadini, perché i lavoratori sono sottopagati e molto spesso deprofessionalizzati.